segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te la principale sfida credo che in questo momento sia mettere a punto un programma ragionevole con una squadra di ministri competenti e di buon profilo che rassicuri un po tutto quello che sta accadendo nel resto del mondo con preoccupazioni che ci sono che sono abbastanza diffuse su come l'italia si comporterà soprattutto per quello che riguarda i rapporti con l'europa senti sia lei che guido crosetto hanno detto sarà una squadra di competenti non cederemo i compromessi al manuale cencelli ovviamente quando si parla di questo si parla dei rapporti con i principali alleati che sono salvini e la lega da una parte berlusconi e forse italia dall'altro tu da questo punto di vista vedi dei problemi ma sì naturalmente ce ne saranno già si è visto ieri è cominciato un assedio cominciano a circolare i nomi e i due partiti della coalizione uno sconfitto la lega uno con un risultato che stesse anche in discesa un po migliore delle aspettative cercheranno di far pesare i loro numeri e il fatto che senza di loro quella maggioranza in parlamento non c'è i nomi che vedo circolare oggi sui giornali e in buona parte soprattutto quello che rappresentano più istanze forti di partito non mi sembrano proprio il massimo dal punto di vista della della forza della competenza e della proiezione esterna che i ministri dovrebbero avere ecco